Madonna della fiducia dispone sicuramente del più completo poliambulatorio privato di Roma. Uno staff di oltre 100 medici, biologi e paramedici è pronto ad eseguire qualsiasi esame o accertamento diagnostico fosse necessario. Certificato ISO 9000 come del resto tutta la clinica, il poliambulatorio dispone di un laboratorio di analisi cliniche che grazie al costante upgrade dei macchinari è in grado di offrire in tempi sempre più brevi con il massimo della qualità e dell'affidabilità risposte a qualsiasi quesito diagnostico. Un reparto di medicina nucleare dove si possono eseguire quegli esami fondamentali per lo screening delle patologie tumorali come la scintigrafia ossea total body, la scintigrafia tiroidea e la scintigrafia renale. Il più grande e rinomato centro di cardiologia nucleare dell'intero panorama regionale che da anni, con qualità senza uguali, costituisce con le sue scintigrafie miocardiche un punto di riferimento per la totalità dei cardiologi romani. La cardiologia che grazie alla presenza di numerosi specialisti può assicurare tutti i giorni l'esecuzione in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi e privatamente ecocardiografie, alter cardiaci, alter pressori, test da sforzo. Un nuovo reparto di radiologia totalmente digitalizzata, in grado di soddisfare qualsiasi quesito diagnostico con risultati di elevatissimo standard qualitativo, il tutto in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Un reparto TAC per lo studio delle patologie oncologiche. Un nuovo reparto di risonanza magnetica, anch'essa di ultima generazione, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Un reparto di endoscopia digestiva per l'esecuzione di esami come gastroscopie e colonoscopie. Un centro ecografico dotato di ben tre ecografi. Un nuovo centro di emodialisi con ben 24 posti letto e dotato di apparecchiature di ultima generazione che permette di sottoporsi al trattamento in totale sicurezza e comfort. Madonna della fiducia, la clinica privata per tutti. La fiducia, la clinica privata per la kiddo. Grazie a tutti.